Da pochissimo è successa la presentazione italiana della nuova campagna Equity del film Tiger, ma chiamarlo film è riduttivo perché si tratta di una vera e propria strategia a 360 gradi, che tra l'altro va a raccontare una marca nel suo profondo, come non avevate mai fatto. Come mai è nata questa esigenza? Era già tutto previsto perché abbiamo visto per anni insistere su un concetto prettamente moda, con le campagne di collezione, se così vogliamo dire, di prodotto e ora invece questa virata, quindi a raccontare una storia. Cosa c'è dietro? Hai detto bene tu, è un'esigenza, nel senso che per anni abbiamo comunicato, per 4-5 anni abbiamo comunicato quella che è una strategia di comunicazione, se vogliamo dire, tradizionale, cioè prodotto, ambientato in location fantastiche per raccontare quella che è la storia del marchio in maniera però legata molto alla collezione. Da sempre abbiamo comunque pensato che sarebbe stato il momento poi di raccontare la vera storia che c'è dietro il marchio, una storia autentica di persone che hanno costruito un marchio di successo nel mondo delle vele, perché North Seis è la più grande veleria al mondo, distribuita in tutto il mondo, e questo prodotto è un prodotto che diventa oggi storia. E quindi la scelta, hai detto esigenza, la riprendo, è l'esigenza di raccontare quello che è la verità, la vera storia che sta dietro questo marchio, una storia molto bella, è cominciata nel 1958, una storia di persone, di velai, di velisti, di tigri, perché così Lowell North chiamava i suoi più stretti collaboratori, le tigri del mare. E quindi abbiamo deciso di creare una campagna che non raccontasse il prodotto ma che raccontasse la storia che c'è dietro il marchio e per farla abbiamo scelto di produrre dei contenuti. Oggi i contenuti sul web sono fondamentalmente fatti di immagini, di immagini in movimento. Abbiamo pensato facciamo un video e poi perché non fare un film? E quindi dal video al film il passaggio non è stato così veloce, ci abbiamo messo un po' a elaborarlo, anche perché costruire un film comunque con Film Master, come abbiamo fatto con Zero, che ha elaborato il tutto, non è stata una cosa facile, però abbiamo ottenuto un buon risultato, siamo contenti. Visti i tempi viene spontanea una domanda un po' pragmatica, ma come mai proprio in un anno che segna una crisi evidente viene la voglia di guardare più alto? Invece potrebbe sembrare più logico pensare al tattico, quindi a campagne direttamente tattiche che pensano allo scaffale? Hanno sorribili, ma non è nel primo o nell'ultimo, mi sa, per cui in realtà il concetto è proprio perché c'è questa crisi e se un marchio ha qualcosa di vero, qualcosa di autentico, deve raccontarlo. Il Unique Selling Point non è fatto dal prodotto, il Unique Selling Point è fatto da ciò che racconti del prodotto, quindi il tuo marchio. NorthSales ha un marchio che ha profondità, ha spessore, ha una piattaforma valoriale molto grande, con molto da comunicare. Cercare di vendere un prodotto che sul mercato ha concorrenza è una scelta, noi abbiamo scelto di raccontare qualcosa che sta oltre il prodotto, quindi di creare una relazione col consumer diretta attraverso una campagna integrata di comunicazione che va dalla carta stampata al web, al cinema, e ovviamente a tutti i social network coinvolti, in modo tale da far sì che i nostri consumatori conoscano il marchio prima di conoscere il prodotto. Il prodotto è molto importante e non si deve essere sempre avuto un gran prodotto, ma quello che c'è dietro è ancora di più. Tra l'altro il film lo vedremo a Natale al cinema, c'è anche la campagna stampa, però la piattaforma dell'elezione, tutto il web, forse proprio in nome di questa connettività, di questa interazione. Come sta andando, perché è già online il film e tutto il progetto, come sta andando? Siamo piacevolmente sorpresi della velocità con la quale in realtà i risultati si sono fatti vedere. Abbiamo quintuplicato i fans sulla pagina Facebook, abbiamo decine di migliaia di visualizzazioni su YouTube, ci sono conversazioni all'esterno dei social network gestiti dalle reti nostre che trattano del tema. Quindi lo scopo nostro principale era quello di raccontare una storia e di far sì che questa storia diventasse virale. È accaduto, le persone parlano di ciò che sta succedendo dentro North Sales, la percezione del marchio sta cambiando, sta migliorando. Credo che una campagna di equity non possa avere risultati migliori. Come la interpretate questa campagna di equity? Cioè si tratta di una, non dico butad, ma di un progetto mordi e fuggi, oppure si tratta di poi declinarlo? C'è una storia che continuerà nel lungo, magari declinandosi anche su campagne di prodotto, perché no? Però insomma sarà la piattaforma su cui voi poi andrete a raccontare la vostra relazione con il consumatore? Sicuramente quella seconda che hai citato, il nostro è un progetto a tre anni, abbiamo appena cominciato, partita ai primi di settembre. Tanto per darti un'idea, il catalogo non è più catalogo, è diventato un magazine che si chiama Tigers, che ha all'interno anche il prodotto, ma che racconta le storie che sono all'interno e all'esterno del mondo di North Sales. Quindi la sponsorizzazione dell'America's Cup con il Team New Zealand, con degli articoli, il viaggio fatto in Sicilia piuttosto che in Normandia, alla ricerca di posti dove il mare c'è, ma che comunque non sono necessariamente legati al prodotto. Quindi il prossimo passaggio è quello di evolvere questa piattaforma che oggi è stata lanciata e stimolata direttamente dall'azienda per far sì che venga veramente condivisa. Stiamo lavorando per il futuro, non posso dirti altro, ma ci sono molte cose in ballo. Chiuderei sfruttando un po' la tua visione anche internazionale, perché tu oggi appunto sei consulente esterno North Sales, anche se hai fatto parte proprio del remarketing, insomma manager, fino a poco tempo fa e vivi in Svezia. E tra l'altro quindi con una visione anche allargata al mondo, dove va la comunicazione all'estero? Sei mesi fa l'acquisto spazi in Svezia, l'acquisto spazi sul web ha superato l'acquisto spazi tradizionali. La Svezia è un po' un laboratorio da questo punto di vista in Europa. Sicuramente la comunicazione va verso un'integrazione dei sistemi. Non è vero che la comunicazione si sosposterà tutta sul web, non è vero che rimarrà nell'area tradizionale. La grande capacità secondo me è quella di riuscire a integrare il più possibile i messaggi che vogliono essere comunicati in maniera trasversale ma soprattutto coerente. Quindi il mordi e fuggi non funziona, non può funzionare. La rete ti dice che ci vuole onestà fondamentalmente. La verità, l'autenticità è il caposaldo della rete. Quindi se hai storie da raccontare, bene, è meglio che tu le racconti anche molto bene e che le racconti in maniera coerente e coesa.